Sono due genitori che tutti voi conoscete perché sono il papà e la mamma di Federico, Federico Aldrovandi. Allora, buonasera Patrizia e buonasera Lino. Che cosa è successo? Ecco, mi sentite, mi vedete? È successo che oggi si è molto riparlato di vostro figlio, si è parlato perché c'è un video, una parte di questo video in realtà l'avevamo già fatta vedere, è un video, signora Patrizia, se ho capito bene, è quel video per cui lei si è alzata, era in una delle udienze, si è sentita male e ha abbandonato l'aula, è così? Sì, sì, è così, non ce l'ho fatta a vederlo interamente, insomma, dopo un po' ho dovuto alzarmi e uscire dall'aula. L'ho visto poi successivamente, con calma, sono riuscita a vederlo. Senti, Patrizia, Patrizia e Lino, allora se voi naturalmente permettete, possiamo farne vedere alcuni brani di questo video? Io avverto una...